Signore e signori buonasera, benvenuti in Minecraftita, io sono Surry e oggi dobbiamo fare una rimozione forzata di alcune cose e mi riferisco alle nostre berries perché mi avete fatto giustamente notare che signore e signori avendo così tanti animali a portata di mano nella valle incantata è solo questione di tempo prima che qualche animale muoia per via di queste bacche e visto che stiamo facendo un po' d'arca di Noè, cioè stiamo andando a recuperare figa tutti gli animali che esistono nel cazzo di mondo mi dispiacerebbe dover ripercorrere alcune di quelle strade inutilmente visto che gli animali ce li abbiamo abbiamo queste 36 sweet berries e vaffaculo le mettiamo da parte e non ce ne freghiamo più direi che è anche un'ottima idea, non so cosa ne pensate voi, a me piace tanto come roba le mettiamo qui, guarda non so se ne avevo già qualche parte delle berries, no? nessuno berries, le mettiamo, le mettiamo lì come dice il mio inventario ho una scoot in più perché comunque le amichette crescono il problema è che crescono, crescono e io come cazzo faccio a prendere le scoot se non ci sono vicino? è un'ottima domanda, è una domanda molto interessante a cui purtroppo non so dare risposta perché non le vedo manco, eccola, ma minchiamo quanto cazzo è piccola? proprio mini mini, il fatto è che non è che si vede piano piano come cresce, no? un secondo è così, il secondo dopo ecco lì, cioè c'è un piccolo problema di fondo, capisci anche tu o no? vabbè, detto questo, devo dire che comunque aver fatto alcuni episodi in cui abbiamo avuto più approccio alla notte, se vogliamo, mi sono reso conto di una cosa, dobbiamo sicuramente ridisegnare in qualche modo l'illuminazione della nostra valle incantata per farlo, al posto di utilizzare questi, non mi ricordo il nome, però al posto di utilizzare questi cosetti qua ho pensato, facciamo qualcosa in più strutturato scegliamo noi l'altezza delle varie luci e per fare ciò abbiamo bisogno di, non devo neanche dirlo, ma non devo neanche dirlo un malamarea di lanterne voglio fare proprio una specie di cielo stellato però con le lanterne voglio anche ovviamente delle catene quindi per fare le catene avevo bisogno di una buona quantità di ferro e cos'altro? bisogno di ferro e un po' di questo, giusto? quante me ne fai fare? 64, non bastano mai nella vita fammene fare altre 35 ma anche, guarda, queste invece le trasformate uh, forse ho esagerato un pochino forse, forse ho esagerato un pochino facciamo altre di queste, sono altre 20 abbiamo 40 lanterne sono tante 40, sì, ma sono abbastanza? secondo me no ma lo scopriamo se la facendo nel frattempo trasformiamo un po' di legno in più in sticchettini e, ta 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 recuperiamo anche un po' di carbone da qua che tanto ne abbiamo un bel po' va bene, per gestire questa situazione qui io direi che possiamo usare tranquillamente dei blocchi di terra non andrei a piazzare chissà cosa la terra ci piace perché va via velocemente e non è troppo sbatti e partirei da questa zona proprio cioè mi piacerebbe arrivare fino a lì cioè mi piacerebbe salire qua e iniziare a piazzare delle catene in fondo alle catene mettere della luce molto semplicemente e creare dei livelli diversi ora, quanto diversi sarebbero questi livelli? lo capiamo se la facendo ad esempio noi dobbiamo andare comunque verso di là potenzialmente quindi iniziamo a piazzare un paio di quelle da due mi sembra un buon metodo queste qua ne piazziamo prima con un criterio di una certa altezza tipo prima piazzavano tutte quelle da due poi dopo aver piazzato tutte quelle da due capiamo come piazzare le altre quindi quelle un po' più grandi quelle un po' più piccole quelle da uno quelle da zero potenzialmente anche e così via quindi anche qui ne mettiamo un'altra da due un'altra da due che però sarà un po' più profonda un'altra da due anche qui anche qui che fai non ne metti un'altra da due certo e già che ci siamo ovviamente piazziamo subito anche queste lanternine perché è un secondo a perdersi qui e a fare le cose male allora partiamo così ne mettiamo due 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 ok poi mettiamo tipo una che scende da lì che va più avanti tipo ma quel l'enderman che fa breakdancing mi mancava era da un po' che non c'era però va bene posso no guarda non gli do nessun colpettino perché sennò qua in seconda morì mettiamole tipo uno qua uno due tre quattro cinque questa mettiamo bella bella in fondo come faccio a piazzare vabbè facciamo quattro se no è un casino piazzare la lanterna tanto non dovrebbe essere la stessa altezza comunque di quella è un po' più bassa va bene poi anche la morfologia del terreno ci aiuta da questo punto di vista e anche qui sicuramente ne vorremmo un'altra anche lì riusciamo a saltare e piazzare perfetto ora mettiamo una da tre una da quattro ok già ci piace ora facciamo una piccola scalettina andiamo qua su e le piazziamo anche qui proprio fino in fondo ne vogliamo tante ne vogliamo proprio abbiamo 30 lanterne le useremo tutte 30 quindi sicuramente aiuto cosa è successo danni 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 allora vediamo se riusciamo a sopravvivere a questa caduta ma a quanto pare no calma un po' calma un po' ok siamo sopravvissuti cosa è successo esattamente abbiamo perso una buona quantità di questa gravel qui fortunatamente la recuperiamo starla facendo però cazzo c'è una marea di gravel qua a questo punto mi sorge spontanea la domanda facciamo cadere tutta facciamo cadere tutta prima di ritrovarci con non lo so cose malate che cadono dal cielo ogni 3x2 ok mettiamo un'altra lì mettiamo una catena lì non è il massimo eh me ne rendo conto però poi solo una volta che scendiamo riusciamo a capire l'entità del danno non danno di cosa è successo di cosa non è successo per il momento sappiamo che è caduta un botto di gravel ma potenzialmente potrebbe cadere anche questa eh guarda ti dirò a rischio di facciamola cadere tutta perché non voglio ritrovarmi con ipotetiche cadute future random che se posso evitarmele insomma me ne evito ok abbiamo praticamente distrutto la valle incantata no non è vero però più o meno allora facciamo scendere da qua una bella catenona mettiamola anche qua mettiamola anche qui e saliamo qua in cima perché vogliamo una roba abbastanza densa allora questo in realtà ci sta che scenda un bel po' facciamola scendere un bel po' ok forse potrebbe scendere anche un po' di più facciamola scendere un pochino di più ok e la mettiamo qua ora se non sbaglio sta anche diventando notte che è perfetto perché almeno ci dà un criterio per vedere se la luce c'è oppure no non ho l'ambizione di illuminare la valle incantata da qui ci mancherebbe però sarebbe carino vedere un po' di luce dal basso verso l'alto ecco sicuramente so che devo rifare tutta la parte lì indietro perché non ce ne sono abbastanza però qui secondo me abbiamo raggiunto un ipotetico buono livello buon livello non buono livello mettiamo un'altra qui tipo che ci può stare un'altra là in cima ok ora è sempre un po' pericoloso fare queste cose random perché non vedendo dal punto di vista insomma da sotto come è la situazione eh il rischio è di piazzarle o troppo vicine o troppo lontane o con la frequenza sbagliata eh è un po' sbatti è un po' sbatti allora possiamo piazzare un po' di più dovrei piazzarne anche di lì totalmente eh totalmente anche di qua pensamelo un po' anche di qua mettiamole una di là mettiamo una qui ne mettiamo una lì se riusciamo a piazzarla potrebbe essere difficile invece no easy una qui una di qua ok mettiamo una lì siamo abbastanza eh eh non male forse anche di lì mettere un paio stiamo attenti che vedo che c'è della gravel però allora non piazziamo assolutamente dove c'è la gravel che voglio evitare casini se possibile ecco tipo lì non la mettiamo quanta gravel c'è in sta valle incantata madonna ora qua potrebbe anche cadere non è un problema però vorremmo evitare se possibile mettiamo una qua sarebbe bello farne cadere una tipo dalla in cima proviamoci o qua che eh cosa è successo che mi ha fatto cadere lo zombie ma dove cazzo è uscito maledetto maledetto zombie di merda vabbè oh queste siete cresciute sono le stesse di prima no oh tu bro non è che così mi muori eh una tartaruga al cioccolato buona cioè oddio non lo so e non è che sono cresciute altre altre di queste maledette non mi hanno lasciato lo schiute un po' un casino qui eh obiettivamente un po' un casino fortunatamente la mia armatura mi impedisce di morire da queste altezze blande allora lì ce ne abbiamo decisamente troppe però eh ne ho messo un po' troppe forse devono scendere un po' di più mh sicuramente prendiamo l'arco e facciamo un bel jackpot col tipo là in alto madonna guarda come cade madonna one hit così troppo forte troppo forte oh no oddio ho rotto un uovo sono saltato su un uovo ho rotto un uovo porca puttana porca puttana io che salto sempre ho appena ucciso una tartaruga che brutta roba proprio brutta se posso dirlo la mia vabbè dove andrà così lo sai che non mi fa impazzire sarà che non ho ancora installato l'optifine oh oh è cresciuta ora è per caso è cresciuta ora non c'era un secondo è invece la stessa secondo me devo stare l'optifine perché il problema non è tanto la luce è che non c'ho il fancy lighting attivo o perlomeno non quello che vorrei io potrebbe essere un altro zombie bro hai rotto un po' il cazzo posso dirtelo oh ma che mira c'ho incredibile incredibilmente incredibile ti dirò simpatico ma forse ci metterei ancora altri di quelli lì in mezzo forse eh quindi un mix di lanterne ma anche di verde immagino che sia in realtà la scelta migliore sto provando a immaginarmelo potrebbe essere carino in effetti ora per farmare queste robe qui però l'unica opzione che ho è raccogliere questo distruggere questi e lasciare che ricrescano è letteralmente l'unica opzione che ho perché non ci sono né se né ma senti è simpatico ma non è così bello come immaginavo smooth lighting è già on graphics fancy però è solo quando installi la la optifine che puoi rendere ancora più carino quello il vetro altri blocchi l'erba che diventa tutta dello stesso colore del lato eh devo vedere se hanno aggiornato ma sono passate più di due settimane avranno per forza aggiornato la 1.20.1 voglio ben sperare intanto torniamo qua in cima uh un blocchetto di ferro bello lo facciamo così stiamo attenti che non ci sia uno zombie qua sopra c'è nessuno? sembrerebbe non esserci nessuno ora mi viene quasi spontaneo non mettere altri oh guarda cazzo quanti cazzo siete ma dove cazzo arrivate vi siete pure bloccati nella barca stupidi bufu con chi cazzo credete di avere a che fare mori bastardo e qua pum bello bello così eh sì secondo me vanno messe alcuni di questi vanno messi io non so se poi con del bombial si può si può far crescere più velocemente sicuramente ci ho già provato ma non credo eh di ricordarmi se è così o meno nel caso fosse così proviamo a spammare un po' di bombial su quelle robe là in modo da avere un po' più di frutti da piazzare eh perché mi piace quell'idea lì capito un mix tra catene quindi ferro lanterne e la luce naturale accolta diciamo più che accolta ehm attornata che cazzo di termine è attornato no non credo sia un termine avvolta avvolta non accolta da eh dal verde di quelle robe lì che poi una volta che sono cresciute possiamo anche tagliarle dagli una forma più più sensata ehm basta cliccare col destro con le scesoia sopra e se è a posto allora prendiamo ad esempio dormiamo già che ci siamo non tanto perché chissà cosa per un semplice motivo mi ricordo perché io dormo sempre perché poi ho paura che mi arrivi il phantom certo non mi fa nulla però oh una dormitina tanto era già all'alba non mi cambia nulla o no oh no vabbè allora capiamo se qui si può fare qualcosa eh si che si può fare e allora vedi che non è così male mi hanno completamente dimenticato di questa cosa qua ma proprio ma sai cosa vuol dire completamente non so neanche se l'ho mai fatta in realtà dovrebbe essere un first quindi ora quante ho 15 di queste cose qua perfetto perfetto allora sai cosa facciamo saliamo qui sopra dove c'è quella questa aggregazione totale bruttissima di troppe 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 decisamente ma diciamocelo davvero troppe tipo qui ok e saliamo qua in cima saliamo 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 e riempiamo di sto verde voglio che sia proprio un non lo so che poi si dice che lei si smora eh però non lo so mica oh tartarughe fanno tartarughe fanno breakdancing fammi scendere subito vedo troppe tartarughe troppe tartarughe a casa mia vuol dire solamente una cosa una di queste stronze ha droppato lo schiut e non me l'ha detto mica maledetta io vengo vi faccio bridare vi tengo al calduccio sì eventualmente distruggo qualche ovetto però insomma è incidenti di percorso qualche schiut per me dai che c'è qualche schiut per me dove sono le mie schiut tu sei ancora qui hai una schiut perfetto perfetto questa questa è una schiut ok siamo a quota 2 più 2 siamo a quota 4 qualche maledetta non me l'ha data eccola 3 puuu godo come un riccio 3 più le 2 che ho da parte sono le tartarughe che abbiamo appena preso vuol dire che io posso fare così e così e avere il mio bellissimo aaa turtle shell che ora non è lontanamente uh questa roba water breathing ok c'è di base water breathing per 10 secondi quindi dura 15 più almeno 25 secondi perché water breathing dura 10 secondi giusto che ora piano piano sta svanendo e dopo quei secondi lì hai le 10 sono 10 si sono le 10 bollicine d'acqua che iniziano a fare ma basta tornare in superficie e poi riscendere per esettarlo è una figata in effetti è una figata ed è adatto a fare questo tipo di cose certo non puoi stare giù tanto ma già il fatto che risalendo e riscendendo hai già 10 secondi a disposizione non è scontato è un'ottima cosa la mettiamo qui la mettiamo qua perfetto ma detto questo continuiamo la nostra avventura queste cose sono pienissime devo fare assolutamente un po' di ordine qua dentro ne sono consapevole ne sono consapevole cosa vuoi ti dica lo so ma aspetta prendiamo un po' di bombiello in più sai cosa vuol dire che voglio proprio plagiare quel tetto di terra con una marea di ste cose ma una marea ma deve essere proprio tutto verde mix catene troppo questo è un po' troppo vai così facciamo anche così a questo punto ahhh bello ah posso anche essere premuto col destro ma allora siamo contentissimi bro siamo contentissimi non ho neanche bisogno delle cesoie io ho una memoria di merda comunque ragazzi ma come lo sappiamo già che la prossima volta che incanterò qualcosa un'armatura ad esempio io vi dirò eh vabbè ma magari riusciano a fare protection 5 anche se io so e voi mi avete detto più volte che protection 5 col cazzo lo riesce a fare col cazzo eh ma sono è l'età eh ragazzi è l'età saliamo guarda tutti che fanno breakdancing allora se le tartarughe le tartarughe ninja beh sono propriamente 4 no dovrebbero essere 5 in realtà facciamo che sono sì più o meno 4 5 devo salire ancora un po' di più perché voglio metterne un po' anche qua in alto allora tipo una lì una qui una lì una qua là sì no giù lì anche qui perché no anche là in fondo andiamo anche un po' anche un po' più di là ora questo ci vorrà un bel po' per farla crescere perché sono un po' lentine però secondo me ci danno il non plus ultra che stavamo cercando non so se è il termine esatto però va bene lo stesso va bene lo stesso tutto allora ripiazziamo anche di qui andiamo di qua un attimino una lì una una voglio metterne una lì bro posso? grazie ok una lì sotto dai bro fammi lavorare guarda qua ah ok una qui una lì oh questa è cresciuta molto rapidamente abbiamo abbastanza verde beh dai già così non mi dispiace mettiamolo anche tipo là in cima sarebbe bello mettere una che esce da lì sopra orca merda per fortuna che non muoio regà perché altrimenti qua sarebbe una catacomba praticamente altro che valla incantata cosa ci avete voi con sto cazzo di blocchettino sto alberello non capisco levatevi dal cazzo via avete un laghetto nuotate eh che cazzo il vostro lavoro andate a fare il vostro vai a fare il tuo lavoro vai a nuotare maledetta maledettissima eeeh si abbiamo fatto un po' un obrobrio riusciamo a tornare su quanta terra ho si hai voglia easy ora io per andare di là in realtà fare una cosa di questo tipo abbassiamoci di un livello tanto la terra ce l'abbiamo non è un problema o no possiamo scendere di 3 o 4 livelli forse anche qualcosa di più e ce ne andiamo di qua ecco qui allora qui ci diamo la pazza gioia cioè ne ho solamente 8 rimasti però insomma è un secondo affarneati stavo per saltare uno lì uno qua uno di lì erca marda però eh eh che cazzo eh che cazzo ah lo shift non c'è più lo shift di una volta non è vero lo shift è sempre lo stesso però figa eh pure io mi metto lì a saltare per piazzare le cose sono un po' scemo eh un po' scemo ne sono un pochino ok lo facciamo alleluia eccomi qua ora mica premo shift come se non ci fosse figa un domani come se fosse come se la mia vita dipendesse da questo shift lo sto premendo allora pensiamolo un po' di più salta ma rimani fermo che è una roba un po' strana da dire però è così eh questi poi col tempo cresceranno l'ho appena piazzati mettiamole un po' questi tre mettiamole un po' di là tipo uno qui lasciamo mettere uno di qua non ci arrivo merda non ci arrivo lì non ci arrivo facciamo così allora mettiamo uno lì uno lì ok per il momento li ho finiti però ovviamente è un work in progress ci vuole un secondo a piazzarne altri ora che vi ho scoperto che col bombier lo puoi farne quanti ne vuoi cioè abbiamo scoperto lo sapevamo già perché diciamolo lo sapevamo già è che me lo sono dimenticato totalmente fantastico stavo per rompermi i blocchi da sotto il culo sono un campione sono un campione ma sta diventando notte via come passa il tempo cioè vabbè forse è meglio così possiamo vedere un po' meglio la situazione qui la gravel ma sai che allora poi la leviamo sicuramente però è un evento naturale nel gioco potremmo anche lasciarlo lì non è non è che ci dà questo grande fastidio molto meglio con il verde incredibilmente meglio immaginatevolo che è cresciuto ancora un po' di più tipo così e ci piace con l'acqua dietro magari mettiamo ne mettiamo altri di lì sì con il secondo di poi magari le lanterne potremmo evitarle però magari anche no c'è da vedere una volta che sono cresciute come sono cioè come appare lo sbatti di queste robe che sono davvero davvero lenti a crescere cioè una marea di tempo ci mettono davvero una marea di tempo potrebbero metterci uno o due episodi allora adesso sono ammazzate delle lanterne va bene allora possiamo piazzarne un paio qui tipo questo non è un blocco centrale purtroppo perché sono 4 4 sono 8 potremmo mettere magari uno qui uno qui uno qui e uno qui piccolo lampadario non lampadario diciamo che a livello di luce qui siamo ben organizzati ne abbiamo un bel po' come un'altra cosa che volevo fare era dare un animo anche a quest'altra torre però non saprei cosa farci forse la stanza delle pozioni anche perché sarebbe ora giusto? ora non abbiamo mai usate però potrebbe potrebbe avere senso questa è carina mi piace magari manca qualche quadro magari giusto nell'angolino per dare un po' di colore non lo so suoniamo la campana saldiamo saldiamo oh mio dio non ce la faccio più suoniamo il nostro corno e direi che per questo episodio è tutto signore e signori noi ci vediamo domani alle 7 con la prossima mutata di Minecraft Ita io vi saluto ciao a tutti 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 a tutti